Era talmente coinvolto dalla partita della sua squadra del cuore, la Juventus, che quando ha sentito bussare alla porta ha aperto senza troppo badare allo stupefacente sparso sul tavolo di casa. Sull'uscio però l'amara sorpresa, non ha trovato l'amico che aspettava ma i carabinieri. Un 41enne di alzate brianza è finito nei guai. I fatti risalgono ieri sera, i militari sono entrati nell'abitazione e l'hanno perquisita. Nel salone hanno trovato alcuni pezzi di hashish e poi sono stati scoperti altri 320 grammi della stessa sostanza in un contenitore di vetro, oltre a 340 euro in banconote di piccolo taglio, frutto probabilmente dell'attività di spaccio. Perquisito anche l'amico quarantenne che era con lui in quel momento a vedere appunto la partita Porto-Juventus. Anche egli nascondeva alcuni grammi di hashish, mentre ulteriori 115 grammi sono stati trovati subito dopo nella sua abitazione di Orsenigo. Entrambi sono stati arrestati. Qualche ora prima, nel tardo pomeriggio all'esterno di un bar di lipomo, i carabinieri di Albate hanno sorpreso invece un operaio 42enne cedere ad un ragazzo di Albese con Cassano un grammo di hashish. Dalla perquisizione personale e dell'auto sono state scoperte 16 dosi in totale, più altri 145 grammi in casa, di cui 4 nascosti nel materasso. In un borsello c'era poi un altro pezzo dello stesso stupefacente da 105 grammi. I militari hanno trovato inoltre 660 euro in contanti, frutto anche in questo caso, verosimilmente, dell'attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato, il 42enne è stato arrestato.